Neanche il personale sanitario riesce a scampare all'ondata di violenza che sembra non avere fine al carcere di Vigevano. Un medico di servizio presso la casa di reclusione dei piccolini è stato aggredito da un detenuto rimediando calci e pugni. Si tratta dell'ennesimo episodio violento e anche in questo caso, come molti altri episodi denunciati negli ultimi mesi dal sindacato USP, a rendersi protagonista dell'aggressione è un detenuto che già in passato aveva mostrato atteggiamenti pericolosi. Il segretario regionale del sindacato Gianluigi Madonia chiede che vengano presi provvedimenti esemplari ricordando inoltre che nel carcere di Vigevano ci sono importanti problemi di organico. Ormai comincia a far parte della nostra quotidianità sentire notizie di aggressione presso la casa di reclusione di Vigevano. Non bastano più i poliziotti, non bastano più gli agenti in servizio, adesso i detenuti hanno aggredito addirittura persone civile, in questo caso un medico di guardia che oggi era giustamente lì ad adempiere i suoi doveri istituzionali e si è beccato qualche calcio e qualche pugno. Il problema è questo, che a Vigevano ci sono miriade di casi violenti e il personale non vede soluzioni perché è davvero inaccettabile che da mesi se non da anni accadono questi episodi, il sindacato denuncia tutte queste criticità e l'amministrazione fa ben poco perché evidentemente il personale sta accadendo in depressione professionale, è frustrato. Noi riteniamo che l'amministrazione debba dare segnali di fermezza e determinazione rispetto a questi soggetti che continuamente non sottostanno le regole e sono come dire costantemente indisciplinati. Vigevano è una realtà che oltretutto soffre una grave carenza di organico, l'ultimo segnale che ha dato l'amministrazione a proposito di carenza organico è giusto l'assegnazione di qualche agente che certamente non colma le esigenze perché evidentemente dove c'è più personale o perlomeno dove c'è il personale adeguato alle esigenze operative la sicurezza è gestita meglio.